Un cielo di stalattiti che a migliaia pendono dal soffitto di una grotta antica come la storia stessa della Calabria. A Santilario, in provincia di Reggio, nel ventre delle colline della Locride che si affacciano sullo Ionio, si cela un altro tesoro dimenticato. Una grotta artificiale, probabilmente un ninfeo, cioè un edificio sacro, realizzato dai Greci più di 2000 anni fa. Ubicata in un terreno privato, alla grotta si accede attraverso uno stretto ingresso che si mette in un lungo corridoio scavato nella roccia per circa 30 metri. Percorrendolo tutto, si arriva dinnanzi ad una sorta di porta che conduce nella camera principale. Una piccola cattedrale rilucente, alta fino a 4 metri, con il tetto accostellato da migliaia di stalattiti, frutto del lento accumularsi dei sali minerali trasportati dall'acqua che filtra nel sottosuolo. Fu questo lo spettacolo che si trovò dinnanzi Renato Mollica, appassionato cultore della sua terra che a metà degli anni Ottanta venne a conoscenza della grotta. La esplorò, consapevole di essere forse il primo che ci metteva piede da millenni, ma promise all'anziano proprietario del terreno di non rivelare a nessuno dove fosse l'ingresso. Nel corso degli anni ci è tornato diverse volte, scattando foto e realizzando nel 92 anche un video, ma la promessa non l'ha mai infranta. Oggi, grazie a un progetto di ricerca universitario sugli antichi ninfei, sulla grotta di Sant'Ilario si sono riaccesi i riflettori della comunità scientifica. In attesa che gli archeologi sciolgano i dubbi e ricostruiscano la storia di questo luogo misterioso, non resta che augurarsi che non venga nuovamente dimenticato, sprecando così l'ennesima preziosa occasione per valorizzare l'inestimabile patrimonio calabrese. Enrico De Girolamo per la CNews24